Buongiorno, buongiorno a tutti, allora benvenuti, iscrivetevi a questo canale che domani commentiamo anche la Supercopa, commentiamo Udinese-Atalanta, seguo la Roma, iscrivetevi tutti e condividete, seguitemi su Instagram, su Twitter, partita, partita veramente devastante. Tra l'altro adesso io non so se sia vero questo discorso che siccome la Roma ha fatto sei sostituzioni gliela danno persa a tavolino, ma tanto cambia poco perché voglio dire l'avresti persa comunque, però se è vera sta cosa delle sei sostituzioni diventa un'altra ciliegia, un'altra ciliegia di Pangasio veramente a questa squadra. Una sera che dico ma che bello gioca la Roma, me la guardo, magari ci sarà un ritorno in auge dopo il derby, ci sarà un ritorno di fiamma, il disastro, il disastro con lo Spezia che diventa il Real Madrid, veramente che due palle, che due palle, che due palle e Saponara che a Firenze, niente, a Firenze sparisce, fuori da Firenze diventa Messi, diventa Messi, veramente stasera Saponara a versione Messi. Detto questo, allora io apprezzo Fonseca, lo difenderò fino alla fine, lo difendo, è un side coach, però una cosa devo dirla, hai giocato contro la Lazio e sei stato, giustamente perché bisogna dirlo, accusato di avere una fase difensiva allegra, diciamo così, con i banes che ha fatto le cappelle, ma perché oggi mi fai turnover in difesa e mi schieri Cristante centrale di difesa? Che poi io sento spesso criticare Cristante, ma alla Roma non l'ho visto una volta giocare nel suo ruolo, che per me è quello di trequartista, cioè o gioca centrocampista di interdizione, o addirittura difensore, ma perché? Ma se sei reduce da una gara in cui ci sono stati dei problemi difensivi, ma metti Smalling, dai un attimo di fiducia alla difesa, fagli riacquisire fiducia, anche i banes, io stasera, l'avrei fatto giocare, Perché è come Gagliardini con Conte l'anno scorso quando sbagliò quel gol con il sassuolo, o come quando cade in bici, cioè devi rimontare in sella il prima possibile Io oggi avrei confermato, vi dico la verità, la difesa che aveva giocato contro il derby, proprio perché nel derby aveva fatto schifo, l'avrei riconfermato oggi per ridare fiducia, per ritornare in fiducia Oppure sì, potevi far giocare con Bulla, ma casomai con Bulla potevi farlo giocare tutto il secondo tempo, se il primo tempo si metteva in una situazione ottimale, se eri in vantaggio, magari anche 2-1, 2-0, quel che era Invece ho visto una Roma che è entrata in campo in ciabatte, ho visto una Roma che è iniziato subito male proprio dal punto di vista difensivo, della solidità difensiva Una Roma svagata, una Roma che poi per carità, dopo quando è andata in svantaggio, con il doppio svantaggio, ha creato un enorme mole di occasioni Se uno vede la partita, non è giustissimo il risultato, perché la Roma ha avuto veramente una selva di occasioni Pedro, ma soprattutto anche Borca Majoral, veramente questa sera a versione Vitello tornato, questa sera Borca Majoral, Vitello dai piedi di balsa Veramente è una cosa incredibile, le occasioni che si è mangiato Borca Majoral, una Roma che ha creato, una Roma che ha avuto le sue occasioni Una Roma che secondo me neanche meritava la sconfitta, devo essere onesto, però un oralo spezia che ha avuto la lucidità, la forza La bravura di riuscire ad impostare i suoi contropiedi, di fare anche un gioco Poi no, poi quell'azione lì, poi si è andati con le espulsioni, si è andati con le espulsioni e la partita è cambiata Perché prima delle espulsioni l'inerzia era tutta a favore della Roma che poteva anche vincere la prima del novantesimo Si è andati i supplementari, c'è stato un intervento di, come si dice, di Mancini che io, a essere onesto, non avrei dato il giallo a Mancini Per quell'intervento lì, cioè non avrei dato il doppio giallo a Mancini e anche il rigore del primo tempo Abbastanza, abbastanza, beh, abbastanza, abbastanza, beh il rigore che è stato dato Non avrei dato il secondo giallo a Mancini e poi soprattutto c'è quell'uscita veramente devastante di Paolo Lopez Quella è stata una roba veramente anche brutta, brutta da vedere a questi livelli E quell'espulsione invece era giusta e ci stava La Roma è rimasta con due uomini in meno, ha cercato di fare un po' di azione di ripartenza Facendo sfogare lo Spezia, ma lo Spezia ha avuto gioco facile Ha avuto anche l'abilità, quando è stata con due uomini in meno, ovviamente, di gestire la partita Di colpire al momento giusto, di colpire in due momenti E la partita si è incannalata così, la partita si è incannalata così È un peccato comunque perché io continuo a dire che questa Roma qui ha una squadra ottima È veramente una Roma che mi piace, con degli ottimi giocatori Però stasera la cosa che mi è dispiaciuta è che ho visto degli atteggiamenti un po' rivedibili C'è gente che entra in campo in ciabatte, gente scazzata Ho visto anche Mancini che esce ridendo Vedo una squadra che probabilmente psicologicamente deve un attimo darsi una riassestata Poi se analizzo la partita vedo anche una squadra però che ha creato tanto Vedo una squadra che le sue occasioni per vincere, anche numerose, le ha avute E adesso bisognerà vedere con che testa la Roma-Siria facerà il campionato Le competizioni restano due È una squadra che è comunque terza Dopo il derby si erano fatte addirittura voci su un possibile allontanamento di Fonseca Adesso inevitabilmente questo tipo di voci riemergeranno Ma io penso sia una stupidaggine Perché comunque ricordiamoci che stiamo parlando di una squadra che è terza in classifica Di una squadra che ha fatto un buon campionato Quindi io sono assolutamente dalla parte di Fonseca Devo dire però comunque che la formazione scesa in campo stasera non mi è piaciuta Io posso capire che tu possa far turnover Infatti Borca Maggiorelli io non rimprovero il fatto di averlo fatto giocare Anche a centrocampo che hai fatto dei cambi Il più è la difesa Il più è la difesa Perché dopo il derby era un reparto assolutamente delicato Era un reparto che andava rafforzato Era un reparto che andava convinto, diciamo, riconvinto Invece stasera hai pagato soprattutto quello, secondo me Al netto, ripeto, di un rigore che probabilmente non c'era Lo Spezia ha fatto la sua bella partita Ripeto, io sono dall'anno scorso che seguo lo Spezia A me non sta particolarmente simpatico lo Spezia Perché è stato sempre, diciamo, lo si sente sempre citare È diventato un po' storitalizzato Mi piaceva di più l'anno scorso Io l'ho seguito Cioè, nel senso, è una buona squadra anche quest'anno Però l'anno scorso la seguivo con maggior simpatia E se vi ricordate c'erano diversi elementi che avevamo messo sott'occhio E anche sott'olio E io voglio evidenziare questa sera la partita, per esempio, di Maggiore Che mi è piaciuto molto A parte Saponaro, ovviamente, a parte i soliti noti Ma anche Erlich, che è un ottimo difensore Erlich è veramente un ottimo difensore in potenza Bene anche a Campora, che è entrato Una bella squadretta con dei bei giovani Con dei bei giovani E va menzionata sicuramente anche la prestazione di Krapikas Che veramente, se lo Spezia è rimasto in partita Gran parte del merito Va anche a questo portiere Che veramente ha fatto dei miracoli stasera E penso che li abbiate visti tutti Per quel che riguarda, vi ripeto, questa cosa Delle sei sostituzioni Delle sei sostituzioni della Roma Paradossalmente sarebbe anche meglio Perché almeno, voglio dire, la butti in cacciara E sembra che hai perso la partita E che sei uscito per questa cosa qui Però dovete confermarmela, vi ripeto Perché io so che le sostituzioni di base sono cinque Poi dei supplementari, però, te ne aggiungono una Anche perché, voglio dire Se questa storia fosse vera Penso che anche l'arbitro avrebbe dovuto accorgersi Comunque tutti avrebbero dovuto sapere Che le sei sostituzioni non si potevano fare Invece sono state fatte In ogni caso, vado con del pagellato Allora, Paolo Lopez, voto Cinque, ovviamente voti dal cinque al sette Anche in questa serata di moderazione E di calma moderata Paolo Lopez, cinque Mancini, cinque Più, Cristante, cinque e mezzo Cumbulla, cinque e mezzo Perché è un sad player Pruno Beres, cinque e mezzo Pellegrini, sei meno Villar, dal cinque al sei Spinazzola, sei meno Pedro, sei meno Mkhitaryan, sei Borca Majoral, cinque più Karsdorps, sei Ibanez, sei Dzeko, dal cinque al sei Non mi è piaciuto come è entrato, onestamente Veretù, sei Parles Cerez Sei meno Daniele Fusato Gli diamo Cinque e mezzo Perché nell'ultimo gol Poteva anche fare meglio Paolo Fonseca A me spiace Ma dopo il derby Mi tocca dargli un'altra insufficienza Più per il discorso E di atteggiamento Anche se comunque Una bella responsabilità Ce l'hanno i giocatori Per me Di quello che si è visto stasera Soprattutto di tante cose Che ho visto in campo Che non mi sono piaciute Molta responsabilità Gliela do anche i giocatori In ogni caso Vi ripeto Do il voto a Fonseca Gli do Gli do cinque e mezzo Soprattutto per quel discorso Della difesa Che non Che non mi è piaciuto Soprattutto per quel discorso Della difesa Che non mi è piaciuto E che cosa te posso dire Che se fosse stato io Fonseca Non l'avrei fatto mai Vi invito ad iscrivervi A condividere A domani Domani mattina Non faccio uscire video State sintonizzati Perché farò video Sulle said presidents Va bene Farò un video Su cinque band esiziali Musicali Che vi consiglio In questo fine settimana E un caro saluto a tutti